Seconda edizione per il laboratorio di canto e musicalità della lingua sarda organizzata dall'Associazione Insieme Vocale Nova Eufonia grazie al finanziamento della Regione Sardegna e alla collaborazione dell'Istituto Tecnico Giovanni Marian Gioi di Sassari della Corale Studentesca Città di Sassari. Il laboratorio consiste in una serie di corsi improntati sul canto e sulla lingua sarda con una sezione dedicata al canto a concordo, aperto al pubblico e tenuto dal docente Bruno Lombardi per 12 settimane consecutive. I partecipanti avranno la possibilità di studiare brani della tradizione sacra e profana. L'obiettivo del corso è quello di mantenere viva la tradizione tra coloro che per motivi di studio si sono dovuti allontanare dai loro luoghi di origine ma anche tra chi non ha mai avuto modo di avvicinarsi ai canti tipici sardi. Il percorso formativo è dunque finalizzato anche alla creazione di nuovi gruppi di canto. La partecipazione è aperta a tutti ma con particolare riguardo verso gli studenti universitari. Sassari infatti ospita studenti provenienti da ogni parte della Sardegna. Attingere dunque al contesto universitario potrebbe rappresentare una garanzia per la salvaguardia di questa tradizione. Le audizioni per il corso di canto a concordo del professor Lombardi si terranno presso la sala accoglienza dell'Istituto Tecnico Industriale di Sassari sabato 26 novembre dalle 10 alle 13.